Musica Si occupa il pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Musica L'ingresso in campo in diretta dal Kennedy Stadium di Napoli si affrontano per la terza giornata, torneo Soccer Cup, Super Cup, che vede affrontarsi i telecronisti contro il River Petit, squadre schierate al centro del campo che salutano i propri tifosi. I morti mostri! Ma io sono un grande e riprendo lo stesso! Saluta a mamma! Ma c'è chi parte? Oh, ho fatto io pure! Squadre, che ora? Ah, forse! Arni e chi? Arni e... Arni e... No, arni fuori e... Chi è passato a porluca? Capitani al centro del campo per sorteggiare il tocco per la palla e per il campo. Primo tempo tra River Petit e telecronisti, risultato di 0 a 0 tra le formazioni in campo. Ora seguiremo tutto il primo tempo. Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.